Buongiorno a tutti. Dallo scorso 22 luglio e fino al prossimo 6 agosto sarà possibile inviare le domande di inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze, le GPS e nella seconda e terza fascia delle graduatorie d'istituto. L'attesa era altissima da parte delle migliaia di aspiranti all'inserimento nelle graduatorie, tant'è che nelle prime ore si sono registrate circa 100.000 domande inviate tramite istanze online. Istanze online che ha manifestato sin da subito i propri limiti perché oltre alle difficoltà di accesso delle prime ore ha già dimostrato alcuni problemi tecnici, alcuni limiti, soprattutto relativamente a alcuni titoli che al momento non è ancora possibile inserire. Si tratta di problemi tecnici già segnalati dalle organizzazioni sindacali al Ministero e che si attende vengano risolti al più presto. A parte questi primi problemi iniziali che, ripeto, si spera si risolvano entro poche ore, l'attenzione adesso si sposta sull'invio delle domande e soprattutto anche sul piano del contenzioso perché già da settimane circolava voce su possibili ricorsi contro il bando di Costituzione delle graduatorie provinciali per alcuni punti critici, in particolare per gli aspiranti in possesso di lauree e 24 crediti formativi che alla luce della giurisprudenza finora formata si rivendicano l'accesso diretto alla prima fascia delle GPS e consentito al momento ai soli abilitati, tenuto conto che il possesso di laurea congiunta ai 24 crediti formativi da una parte della giurisprudenza è equiparato al titolo di abilitazione. Lo stesso dicasi per i docenti in possesso di laurea congiunta al requisito di 3 anni di servizio che alla luce di una recente sentenza del Consiglio di Stato del 30 giugno rivendicano il loro diritto all'inserimento diretto in prima fascia delle GPS e tenuto conto che appunto il Consiglio di Stato ha ritenuto abilitati i docenti che hanno svolto 3 anni di servizio in possesso del titolo di studio. Altro fronte caldo per il contenzioso sul GPS riguarda il personale aspirante ai posti di insegnante tecnico pratico, gli ITP. Per loro nonostante fosse prevista dalla legge la possibilità di partecipare al concorso ordinario senza i 24 crediti fino all'anno scolastico 2024-2025 e il bando delle GPS prevede invece il possesso dei 24 crediti per l'inserimento in seconda fascia, naturalmente per i nuovi inserimenti perché per coloro che erano precedentemente già inseriti nella terza fascia delle graduatorie di istituto non è richiesto il requisito dei 24 crediti. Quindi i nuovi inserimenti di insegnanti tecnico pratici saranno possibili in seconda fascia solo con il possesso dei 24 crediti e qui ci sarà quindi un altro fronte di contenzioso per chi rivendicherà l'accesso diretto alla prima fascia anche senza i 24 crediti. Un altro punto critico riguarda le graduatorie di sostegno dove è prevista la possibilità di inserimento in seconda fascia dei docenti senza titolo di specializzazione purché abbiano svolto almeno tre anni di servizio sul posto di sostegno, però il bando lo limita al servizio svolto solo sul medesimo grado di scuola, quindi non sarà possibile ad esempio per chi ha svolto quattro anni di incarico e di sostegno, due anni sull'infanzia e due anni sulla primaria, non sarà possibile per loro inserirsi nelle graduatorie di sostegno né per l'infanzia né per la primaria nonostante si tratti del medesimo ciclo di istruzione. Quindi questo sarà un altro fronte di possibile contenzioso. Vedremo nelle prossime settimane come si svilupperà anche questo aspetto e se le graduatorie e provinciali saranno pronte in tempo utile per l'avvio del nuovo anno scolastico. Grazie.